Buongiorno a tutti senza luce, bentornati su Fri in the Frame e su Elden Ring, ancora una volta per parlare di un'arma in particolare che era già molto forte prima della patch 1.04, ma che ora ha raggiunto nuove vette di potere, grazie ad alcuni assi nella manica che le sono stati aggiunti proprio in questo aggiornamento. Sto parlando, come probabilmente avrete già capito della spada da carnefice di Mare, uno spadone unico e anche parecchio divertente da usare che potete trovare piuttosto facilmente, vi basterà sconfiggere il boss alla fine di Castello Ombroso, qui nell'alto piano di Altus. Prima di entrare nel merito della build comunque vi invito come di consueto a mettere like e iscrivervi al canale se il video è di vostro gradimento. Inoltre vi rendo noto che potete seguirmi su Instagram se volete rimanere aggiornati su tutte le novità in arrivo nei prossimi giorni. Ma partiamo dalle basi, ovvero dal tipo di build che faremo e di che arma stiamo parlando con esattezza. Lo spadone di Mare, come potete vedere, è essenzialmente un'arma a forza arcano con uno split damage magico che ci farà molto comodo, come vedremo più avanti. Non fatevi ingannare dallo scaling in D in arcano comunque, dato che lo spadone trae molto più danno di quanto pensereste da questa caratteristica. Per questa ragione la build che costruiremo sarà ovviamente un mix tra forza e arcano. In teoria potete anche optare per raggiungere i requisiti minimi in arcano e puntare unicamente su forza, ma facendo dei test per tirare fuori il massimo potenziale è bene avere alte entrambe le statistiche, anche se la differenza non è particolarmente incisiva. Ma perché esattamente questo spadone è così forte? Beh, per via della sua abilità unica, la lama danzante di Eochide, o come diavolo si pronuncia, che vedrà il nostro personaggio lanciare la spada davanti a sé, facendola vorticare furiosamente per un breve periodo. L'attacco in questione si può caricare e si conclude con una sferzata finale, che però colpirà il nemico solo se gli saremo piuttosto vicini. Questa mossa ha un potenziale offensivo altissimo, dato che è possibile aumentare il suo danno in un sacco di modi molto semplici da mettere in pratica, e vi permetterà di sciogliere come burro la maggior parte dei nemici, anche se non si tratta di una di quelle abilità da usare a cervello spento. Diamo un'occhiata alle statistiche per far funzionare una build basata su questa spada. Come sempre vi mostrerò una variante al 150 e una al 125, che fanno uso del sigillo piega di Radagon, partendo come base da uno sventurato, quindi a livello 1 e con tutte le statistiche a 10. Dunque, come vedete, per la variante al 150 abbiamo 44 punti in vitalità, 20 in mente, 25 in tempra, 50 in forza e in arcano e 20 in fede. Si tratta di un setup piuttosto basic, a cui ho aggiunto qualche punto in fede per garantirmi l'accesso a degli incantesimi di base da usare con il sigillo della comunione draconica, che vi ricordo fa scalare questi ultimi principalmente in arcano. Per la variante al 125 ho dovuto abbassare più o meno tutto, come vedete. Abbiamo 40 punti in vitalità, 15 in mente, 20 in tempra, 44 in forza, 15 in fede e sempre 50 in arcano. Fortunatamente, nonostante le statistiche più modeste, anche qui è possibile ottenere risultati comunque più che ottimi, e avrete accesso a tutti i metodi principali per potenziare il danno di questa build. Bene, fatto il punto su questo aspetto, parliamo della spada in sé, ed è perché è perfettamente in grado di distruggere qualsiasi cosa mantenendo anche una certa versatilità di fondo. Ovviamente il punto di forza di quest'arma è l'abilità unica, che con la nuova patch ha ottenuto un raggio d'azione più lungo e la possibilità di cancellare l'animazione prima del fendente finale a corto raggio. Questo cambiamento potrebbe sembrarvi minore, ma in realtà è il motivo per il quale questa spada ha assunto un valore tutto nuovo ai miei occhi. Vedete, era in realtà da parecchi giorni che volevo proporre un video su questa spada, dato che la lama danzante è una skill davvero potentissima. Detto questo, il fatto che la sua abilità unica c'inchiodasse sul posto per parecchio tempo mi dava davvero fastidio, dato che mancando il colpo si era essenzialmente condannati a prendersi un attacco in faccia dal nemico di turno. Tuttavia, ora che è possibile cancellarla e ha ancora più range, beh, la situazione è cambiata drasticamente, motivo per il quale è diventata subito una delle mie nuove armi preferite. Per usarla correttamente però è necessario settare a dovere il nostro personaggio, capendo come funziona il danno di questa abilità e quali sono i migliori potenziamenti e amuleti da usare per massimizzare i danni inflitti. La prima cosa da tenere a mente riguardo la lama danzante è che il suo non scala unicamente sul valore di attacco totale dell'arma. Di conseguenza l'unica cosa che dovremo fare per farla funzionare a dovere sarà optare per potenziamenti che agiscono proprio su questo aspetto dello spadone. Dato che abbiamo i punti necessari in fede, la prima cosa da fare è recuperare e armonizzare Fiamma Dammi la Forza, che aumenta il potere di attacco del 20% in PvE e del 15% in PvP per 30 secondi. Un buff classico e che va sempre bene, in questo caso in modo particolare. Per quanto riguarda invece i talismani, oltre al talismano Piaga di Radagon, che ci concede 5 punti in Forza, Destrezza, Tempre e Vitalità, il frammento di Alexander è una scelta praticamente ovvia, dato che potenzia il danno delle abilità delle armi del 15% ed è qualcosa che fa sempre comodo avere. Per gli altri due slot l'ideale sarebbe avere sia la protesi di Millicent che l'emblema della spada allata putrida, dato che si tratta in entrambi i casi di talismani che potenziano notevolmente i danni per un determinato periodo di tempo dopo aver inflitto dei colpi consecutivi ai nemici, cosa che faremo in modo naturale, dato che ogni rotazione della lama danzante conta come un singolo colpo, di fatto attivando l'effetto di questi talismani. Il problema è che per averli entrambi dovrete finire due volte la quest di Millicent con entrambi i finali possibili, cosa che si può concretizzare soltanto in New Game Plus. Alternativamente potete farvi passare quello che vi manca da un amico, ma giocando naturalmente non avrete accesso a tutti e due questi amuleti, in una singola partita. Non vi preoccupate però perché ci sono delle valide alternative, una di queste è per esempio l'icona di Godfrey, che potenzia tra le altre cose anche quest'abilità del 15% se la caricherete prima di lanciarla. Si tratta ovviamente di un ottimo potenziamento anche se situazionale, dato che non sempre vi troverete nelle condizioni adatte per lanciare un colpo caricato con la lama danzante. Stesso discorso per la spada rituale, che aumenta l'attacco del 10% quando la salute è al massimo. Valido, ma potenzialmente difficile da mantenere. Alternativamente potete optare anche per degli amuleti per rendere la vostra build più efficiente, come lo stemma cariano in filigrana che diminuisce il costo di le abilità o il talismano della tartaruga verde che velocizza il recupero della stamina, sempre cosa ben accetta. Ah, e dovrei anche menzionare che se usate la protesi di Millicent il sigillo di piaga di Radagon diventa tecnicamente opzionale, dato che la protesi ci garantisce 5 punti extra in destrezza, i quali ci permetteranno di brandire lo spadone senza bisogno del bonus di Radagon. Ma come si suol dire, in questi casi possiamo portare i danni ancora un passo oltre usando il giusto mix nell'ampolla del balsamo prodigioso. Nello specifico useremo la lacrima spezzata del velo di magia, che potenzia l'attacco magico del 20%, dato che lo spadone di marè ha effettivamente uno split damage di questo tipo, e insieme a lei la nostra migliore amica sarà anche la lacrima di cristallo spinosa, che potenzia gli attacchi consecutivi andandosi a sommare all'effetto della protesi di Millicent e dell'emblema della spada lataputrida per una combo di danni davvero devastante. Entrambe queste lacrime durano 3 minuti. Una volta optato per tutti questi accorgimenti, vi troverete a fare dei danni davvero devastanti con l'abilità di quest'arma. E generalmente parlando, lo stile di gioco è più o meno quello che immaginate. Tenete però presente che non è una skill da usare ad occhi chiusi in stile Fiumi di Sangue. E nonostante ora sia possibile rollare a metà dell'animazione, dovrete comunque avere una buona conoscenza del parcomosse del vostro avversario per mandarla a segno. Questo è un problema fino a un certo punto, comunque, dato che state usando uno spadone, quindi un'arma con un ottimo moveset e anche con una discreta efficienza nel rompere la postura avversaria. A tal proposito potreste persino pensare di equipaggiarvi con un buono scudo e fare contrattacchi in difesa fino a stordire il vostro nemico. E soltanto a questo punto usare la lama danzante mentre è stordito e non si può muovere. Proprio in virtù della possibilità di cancellazione dell'abilità speciale quest'arma è diventata piuttosto usabile anche in PvP, anche se non la annovererei tra le più efficaci di sempre. Fatto sta che ora è molto più semplice usare la lama danzante tra una combo e l'altra, magari per cercare di fregare il vostro avversario mentre schiva o mentre cerca di usare qualche tipo di abilità. E fidatevi che nella maggior parte dei casi se colpisce sciotta. A questo punto potreste chiedervi com'è la regaglia di Eochide, specificatamente in termini di prestazioni rispetto allo spadone. E la risposta è che purtroppo si tratta di una versione effettivamente peggiore di quest'ultimo, dato che in questo caso abbiamo a che fare con una spada dritta, quindi con meno danno e range rispetto alla sua gemella più grande, ma con la stessa identica abilità. Il che è un peccato. Detto ciò, questa spada è comunque in grado di tirare fuori molti danni usando lo stesso setup visto fino a questo momento e assume valore per due motivi diversi. Il primo è che richiede meno statistiche dello spadone tra il suo danno quasi del tutto dalla statistica arcano, motivo per il quale diventa un'ottima arma da usare in una build fede arcano, basata sui soffi di drago come quella che vi ho mostrato qualche giorno fa. In questo scenario vi consentirà di avere un'opzione molto versatile per attaccare i vostri nemici senza necessariamente dover sfiatare loro addosso o fare affidamento esclusivamente sul sanguinamento. Il secondo motivo è che si tratta di un'arma che potete recuperare molto presto nel gioco, dato che si trova alla fine della caverna carceraria Khalid. Di conseguenza potreste pensare di utilizzarla fino a quando non arriverete ad Altus, per prendere lo spadone. E con questo si chiude il video di oggi, grazie per aver guardato e fatemi sapere la vostra. Sapevate già dello spadone di Mare? Lo avete mai provato? Lo farete ora? Fatemelo sapere qui sotto con un commento, io invece vi saluto e vi ricordo che se vi va potete fare una donazione al mio account Kofi, qualora vogliate supportare il mio lavoro qui su YouTube. Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!